C'è un atleta che ha fatto la differenza, è il momento allora di far tantire l'applauso per la grandissima vincitrice della prova di oggi Elisa Balsamo, va a prendersi il traguardo del chisallo, Balsamo che risolve Filippini, piazza d'onore per l'atleta del cadeo Carpaneto e poi Berrando, pronto per la Berrando e poi Marcotti, Paternoster e manca la Morzenti ad anleta del Villongo, Elisa Balsamo dunque nuovamente prima sul chisallo dopo il 2013 anche il 2014 arriva anche la Pirrone, ecco la campionessa d'Italia seguita dal numero 129 vale a dire Elisa Dallavalle, conclusa dalla campionessa d'Italia, arrivi Granati con la selezione dell'ultima salita, è il momento allora, numero 69 vale a dire Policini seguita dalla Michelotti della Re Artu Factory Kill, gran vittoria per Elisa Balsamo dopo il 2013 è il momento per l'atleta piemontese di vissare il successo, mentre è concluso Gaia Masetti della Bike Dynamics ora è il momento della Wackermann, poi è il momento della numero 140, Marturano, altri arrivi intanto, prima nel 2013, prima nel 2014, l'applauso più bello per la numero 1 Elisa Balsamo, società ciclistica Vigor, si riconferma grande campionessa e soprattutto protagonista assoluta sulla chisallo, Elisa Balsamo, oggi come 12 mesi fa prima sul chisallo davanti a Angela Filippini, una bella soddisfazione per te questa doppietta? Sì, sono contentissima anche perché è una delle gare più importanti di tutto l'anno e sono contenta di essere riuscita a concludere al meglio questa stagione Una salita che conosci bene avendo già vinto l'anno scorso, quando è stato il momento decisivo in cui hai sferrato il tuo attacco? Ma ho provato ad attaccare più o meno all'ultimo chilometro dove la salita diventava più lieve e sono riuscita a spingere al massimo e arrivare fino all'arrivo Per te è una stagione speciale, su strada, su pista, tante vittorie, titoli italiani Il tuo bilancio personale qual è? Ma io sono molto soddisfatta e sicuramente cercherò il prossimo anno Sarà molto difficile ripetersi ma almeno di fare bene L'ultima dedica per chi è? Ma vorrei dedicare questa vittoria ai miei genitori e a Stefano Grazie a tutti